Ciao a tutti, sono Fabio Silver e benvenuti sul mio canale YouTube, Fabio Silver News. Oggi vi parlerò di una storia straordinaria che ho trovato incredibilmente ispirante e che non vedo l'ora di condividere con voi. Si tratta della storia di Lasse Stolle, un giovane tedesco che ha scelto di vivere su un treno, trasformando completamente il concetto di casa e libertà. Ma prima di immergerci in questa affascinante storia, vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, così non vi perderete nessun futuro contenuto. E se il video vi piacerà, non dimenticatevi di lasciare un like e di condividere le vostre opinioni nei commenti qui sotto. Adoro leggere i vostri pensieri e commenti. Ora, senza ulteriori indugi, lasciate che vi racconti la storia di Lasse Stolle e il suo straordinario viaggio nel mondo del nomadismo digitale. Iniziamo. Lasse Stolle, un adolescente tedesco di 17 anni, ha scelto di vivere su un treno, sfruttando il sistema ferroviario tedesco per viaggiare e risparmiare denaro. Dopo aver terminato la scuola superiore a 16 anni, Lasse ha iniziato la sua avventura unica, convincendo i suoi genitori a supportare il suo desiderio di vivere in modo diverso. Sviluppatore software di professione, Lasse ha trasformato i treni della Deutsche Bahn in una casa mobile, sfruttando l'efficienza del sistema ferroviario tedesco per viaggiare e risparmiare denaro. La sua giornata inizia con la colazione nelle lounge di prima classe e termina nelle carrozze letto, mentre per l'igiene personale si affida a palestre e centri di svago per la doccia e lava i suoi vestiti nelle stazioni ferroviarie. Con tutti i suoi beni contenuti in uno zaino, che include tre cambi di vestiti, articoli per l'igiene, necessità per dormire e tecnologia, Lasse vive con una libertà senza precedenti. Nonostante le difficoltà iniziali, come l'adattamento al sonno sui treni e la preoccupazione per la sicurezza dei suoi beni, ha trovato una routine che gli permette di godere appieno della sua scelta di vita. La parte migliore dello stile di vita di Lasse è la libertà che ne deriva. Grazie alla flessibilità del suo lavoro, può lavorare in momenti diversi della giornata e fare viaggi improvvisati, viaggiando per tutta la Germania e l'Europa. In media, Lasse può percorrere oltre 600 miglia al giorno e, a soli 17 anni, ha viaggiato in più paesi di quanti molte persone visiteranno in tutta la loro vita. Sorprendentemente, l'arrangiamento abitativo di Lasse è notevolmente economico, costando circa 10.000 euro all'anno, molto meno rispetto al costo medio dell'affitto in Germania. Capitolo 2. La libertà su rotaia. Le sfide e le conquiste di Lasse Stolli. Lasse Stolli, il diciassettenne tedesco che ha scelto di vivere su un treno, ha trasformato la rete ferroviaria della Deutsche Bahn in un'opportunità unica per esplorare la vita con una prospettiva diversa. Questo capitolo esplora le sfide che Lasse ha dovuto affrontare e i trionfi che ha raggiunto nel suo viaggio non convenzionale. Vivere su un treno non è privo di difficoltà. Lasse ha dovuto affrontare la sfida di adattarsi a dormire in movimento, gestire la sicurezza dei suoi beni e trovare un equilibrio tra lavoro e viaggio. Nei primi mesi ha lottato con il sonno insufficiente e la preoccupazione che i suoi oggetti potessero essere rubati di notte. Tuttavia, queste esperienze iniziali sono diventate lezioni preziose, fornendogli intuizioni sulla vita a bordo dei treni. Con il tempo, Lasse ha sviluppato una routine che gli ha permesso di godere della sua scelta di vita. Ha trovato modi creativi per gestire la sua igiene personale, lavando i suoi vestiti nelle stazioni ferroviarie e facendo la doccia in palestre e centri di svago. Per quanto riguarda l'alimentazione, si approvvigiona da supermercati o sfrutta i buffet gratuiti nelle stazioni ferroviarie più grandi. La libertà è il trionfo più grande di Lasse. Grazie alla flessibilità del suo lavoro come sviluppatore software, può lavorare in momenti diversi della giornata e prendere viaggi improvvisati. Viaggia spesso per tutta la Germania e l'Europa, coprendo oltre 600 miglia al giorno. A soli 17 anni ha viaggiato in più paesi di quanti molte persone visiteranno in tutta la loro vita. Sorprendentemente, il costo di questa vita nomade è notevolmente economico. Lasse spende circa 10.000 euro all'anno, che è significativamente meno rispetto al costo medio dell'affitto in Germania. Questo è possibile grazie alla Bankard 100 di prima classe, un pass annuale che gli consente l'accesso illimitato ai treni di prima classe quadrada. Lasse Stolli è diventato un'ispirazione per molti, dimostrando che è possibile vivere in modo sostenibile e avventuroso. Il suo stile di vita unico lo ha portato a diventare un influencer digitale, condividendo le sue esperienze sul suo blog Life on the Train. La sua storia è un promemoria, che la casa può essere ovunque ci si senta a proprio agio e che la libertà può essere trovata nei luoghi più inaspettati. Capitolo 3. La vita nomade, l'impatto sociale di Lasse Stolli. Lasse Stolli, il giovane tedesco che ha scelto di vivere su un treno, ha non solo ridefinito il concetto di casa per sé, ma ha anche influenzato la percezione del lavoro e della vita nella società moderna. Questo capitolo esamina l'impatto sociale di Lasse e come la sua storia potrebbe ispirare altri a considerare stili di vita alternativi. Lasse ha documentato il suo viaggio sui social media, diventando un influencer digitale e ispirando una comunità di seguaci affascinati dal suo stile di vita nomade. Il suo blog Life on the Train offre uno sguardo intimo sulla sua vita quotidiana e sulle sue avventure attraverso l'Europa. La sua storia ha stimolato discussioni sulle alternative abitative e sul minimalismo, sfidando le norme tradizionali di successo e stabilità. Come sviluppatore software, Lasse ha sfruttato la flessibilità del lavoro remoto per mantenere la sua carriera mentre viaggia. Questo ha dimostrato che il lavoro non deve essere vincolato a un ufficio fisso e che la mobilità può arricchire l'esperienza lavorativa. La sua capacità di lavorare da qualsiasi luogo ha rafforzato il concetto di digital nomadism, un movimento in crescita tra i professionisti che cercano di combinare lavoro e viaggio qua tadao. Lasse ha anche evidenziato un approccio economico alla vita, spendendo circa 10.000 euro all'anno per il suo stile di vita nomade, molto meno rispetto al costo medio dell'affitto in Germania. Questo ha messo in luce la sostenibilità finanziaria di stili di vita alternativi e ha mostrato che è possibile vivere con meno, pur godendo di un'esperienza ricca e piena. La storia di Lasse Stolli è una testimonianza del coraggio di seguire una strada meno battuta e dell'audacia di vivere secondo i propri termini. Ha insegnato che la casa non è un luogo fisso, ma un sentimento di appartenenza e comfort che può essere trovato ovunque, anche in movimento. La sua vita sui treni è un promemoria che la libertà e la felicità possono essere trovate nelle scelte più semplici e che a volte il viaggio è più importante della destinazione. Capitolo 4. La sostenibilità del nomadismo digitale. Lezioni da Lasse Stolli. Lasse Stolli, il diciassettenne tedesco che ha scelto di vivere su un treno, ha dimostrato che è possibile adottare uno stile di vita nomade mantenendo una carriera e una vita sociale attiva. Questo capitolo esplora come Lasse ha integrato la sostenibilità e il minimalismo nel suo stile di vita, offrendo lezioni preziose sul nomadismo digitale. Lasse ha adottato un approccio minimalista alla vita, riducendo i suoi possedimenti a ciò che può essere contenuto in uno zaino. Questa scelta gli ha permesso di vivere con una libertà senza precedenti, viaggiando per tutta la Germania e l'Europa. La sua capacità di adattarsi e di trovare soluzioni creative per la vita quotidiana, come lavare i vestiti nelle stazioni ferroviarie e fare la doccia in palestre e centri di svago, è un esempio di come si possa vivere bene con meno qua bene. La sostenibilità finanziaria è un altro aspetto importante dello stile di vita di Lasse. Spendendo circa 10.000 euro all'anno, molto meno rispetto al costo medio dell'affitto in Germania, ha mostrato che è possibile vivere una vita piena e ricca senza essere vincolati da un affitto o un mutuo costoso. Questo è stato reso possibile grazie alla Bancard 100 di prima classe, un pass annuale che gli consente l'accesso illimitato ai treni di prima classe quotata. Lasse ha anche sfruttato la flessibilità del lavoro remoto come sviluppatore software, lavorando in momenti diversi della giornata e prendendo viaggi improvvisati. Questo stile di vita gli ha permesso di combinare lavoro e viaggio, diventando un esempio di successo del movimento dei nomadi digitali. La storia di Lasse è un promemoria che la casa non è necessariamente un luogo fisso, ma può essere dove ci porta il cuore o, in questo caso, dove ci portano i binari. La sua vita sui treni è un esempio di come la libertà e la felicità possano essere trovate nelle scelte più semplici e che a volte il viaggio è più importante della destinazione a Quedano. Lasse continua a viaggiare, esplorare e ispirare, dimostrando che con un po' di creatività e molta determinazione, le barriere tra casa, lavoro e avventura possono essere abbattute. La sua storia rimane un faro di possibilità per chiunque sogni di vivere una vita meno ordinaria e più straordinaria. Capitolo 5. Oltre i binari. Il futuro di Lasse Stolli e il nomadismo digitale. Lasse Stolli, il giovane tedesco che ha scelto di vivere su un treno, ha non solo ridefinito il concetto di casa per sé, ma ha anche ispirato altri a considerare stili di vita alternativi. Questo capitolo riflette sul futuro di Lasse e sul potenziale impatto a lungo termine del suo stile di vita nomade. Lasse ha dimostrato che è possibile vivere in modo sostenibile e minimalista, viaggiando per tutta la Germania e l'Europa con un budget limitato. La sua decisione di ridurre i suoi possedimenti a ciò che può essere contenuto in uno zaino e di sfruttare la flessibilità del lavoro remoto come sviluppatore software, ha reso possibile un'esistenza ricca di esperienze e libertà. Il suo approccio economico alla vita, spendendo circa 10.000 euro all'anno, molto meno rispetto al costo medio dell'affitto in Germania, ha mostrato che è possibile vivere una vita piena senza essere vincolati da un affitto o un mutuo costoso. Questo stile di vita gli ha permesso di combinare lavoro e viaggio, diventando un esempio di successo del movimento dei nomadi digitali. Guardando al futuro, Lasse ha l'opportunità di continuare a influenzare la società con il suo stile di vita unico. La sua storia potrebbe incoraggiare altri giovani a esplorare modi di vita alternativi e a trovare nuove forme di libertà e felicità. Inoltre, potrebbe stimolare un dibattito più ampio sulla sostenibilità, sul minimalismo e sulle alternative abitative in un mondo sempre più digitalizzato. Lasse Stolli rimane un faro di possibilità per chiunque sogni di vivere una vita meno ordinaria e più straordinaria. La sua vita sui treni è un promemoria che la libertà e la felicità possono essere trovate nelle scelte più semplici e che a volte il viaggio è più importante della destinazione. Con la sua continua esplorazione e ispirazione, Lasse è destinato a lasciare un'impronta duratura nel mondo del nomadismo digitale. E così giungiamo alla fine di questo viaggio attraverso la storia di Lasse Stolli e il suo stile di vita unico sui binari. Spero che questa storia abbia ispirato e stimolato riflessioni su ciò che significa davvero vivere una vita piena di libertà e avventura. Se avete apprezzato questo video e volete continuare a esplorare storie interessanti e ispiratrici, vi invito a rimanere sintonizzati su Fabio Silver News. Non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un like e condividere i vostri pensieri nei commenti. Grazie ancora per essere stati con me in questo viaggio e ricordate sempre, la libertà e la felicità possono essere trovate ovunque, anche sui binari di un treno. A presto su Fabio Silver News.